Il Ministro Nordio ha illustrato le ragioni di diritto e di fatto per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'Ambasciata italiana non è possibile. L'Ambasciata, infatti, non è un luogo idoneo all'esecuzione di misure coercitive. Non ha né la struttura né la legittimazione a sostituirsi ad un domicilio privato come luogo di detenzione. Servirebbero lavori all'interno dell'Ambasciata per creare un'apposita area di detenzione e servirebbe un incremento del numero dei carabinieri. Signor Presidente, l'Ambasciata d'Italia è un luogo dove sono anche conservati documenti riservati. C'è un ufficio cifra, non è una casa privata e quindi deve essere preservata la sicurezza dello Stato perché qualsiasi detenuto deve garantire comunque la sicurezza dello Stato. Quindi non può girare liberamente nell'Ambasciata, aprire i cassetti, entrare e chiudere. Quindi è una questione di sicurezza nazionale.